E' partita la finale degli 800 metri stile libero femminili, Novella Calligaris è in terza corsia. Eccoci a metà gara, Novella Calligaris, ancora in vantaggio nei confronti del passaggio del record mondiale, sempre seguita da Joas Berger, terza Echinaro Tammer, quarta Gudrun Wegner. A metà gara Novella Calligaris è in testa. 650 metri, Novella Calligaris, Joas Berger, poi Gudrun Wegner, poi Narell Moras. E ora con mezza vacca di ritardo c'è Imero Tammer. 700 metri, mancano 100 metri alla conclusione, Novella Calligaris ha ancora due secondi di margine di vantaggio sul primato mondiale ed ha ancora un buon vantaggio su Joas Berger. Un grosso evento nella storia del nuoto italiano. Novella Calligaris ha 50 metri dalla conclusione. Ultima vasca per Novella Calligaris contro cui sta lottando Joas Berger. 25 metri alla fine. 15 metri alla conclusione, Novella Calligaris è ancora in testa. Novella Calligaris è campionessa del mondo. Novella Calligaris, medaglia d'oro e record del mondo. Novella Calligaris è campionessa del mondo degli 800 metri, stile libero femminile, medaglia d'oro, col tempo di 8.52.97, nuovo record del mondo. novella Callig kro in tutti. Novella Calligaris.